Per gli affezionati del canale Lady Oscar non è una novità, io già l'ho nominato nei 10 fumetti che mi hanno cresciuto, che è un video che sta per compiere un anno quasi, quindi se volete conoscere un minimo come è iniziata la mia esperienza di lettore manga e come si è evoluta nel tempo fino ad arrivare a quelli che tra poco saranno i miei 30 anni, vi invito a recuperarlo nel caso siate interessati. Per chi invece è arrivato qui e vuole soltanto sapere più nello specifico che cosa è stato per me, Lady Oscar ha fatto bene perché la nomina che ho fatto in quel video era molto rasciata, non andai molto nello specifico, non ho trattato diciamo a livello deep che cosa è stato per me quest'opera e oggi lo vediamo e come novità del canale lo vediamo subito dopo la transizione. Parliamo esclusivamente del mio rapporto col manga, della serie parleremo un'altra volta perché non mi sembra la sede adatta. Ora questo video ha un titolo specifico, cioè che è il fumetto che mi ha fatto scoprire l'amore. Un meglio è quello che mi ha fatto scoprire che l'amore non è così semplice come credevo. Dici in che senso? Contesto storico, ho tra i 14 e i 16 anni, quindi non capisco nulla e niente di ciò che mi circonda, men che meno il mondo femminile. Da buono sfigato qual ero. Ora non è che la situazione sia cambiata tantissimo, ma almeno un po' più di autostima di me stesso. Io fino a quel momento ero abituato ad un concetto, ad una mentalità di storia d'amore e se ci pensate bene, anche voi non è così tanto difficile, a quello delle principesse Disney. Il viscero per sempre felici e contenti, dove il male viene sconfitto e soprattutto dove tutto viene risolto. Lady Oscar prese tutte queste cose e me le stravolse completamente, ma mettendomi davanti alla realtà dei fatti. Non tutte le storie finiscono bene, anzi spesso soffrono tutti e quando meno te l'aspetti. Sì ragazzi, perché Oscar stessa è la personificazione di questo. Oscar è una donna nata già in una società che dal primo momento non le ha permesso di scegliere cosa fare. Non sarai una donna, verrai cresciuto come un maschio e sarai addirittura il capo delle guardie reali del palazzo. Diverrai un soldato. Cresce però da soldato con dei sani e saldi principi, protegge chi considera buono e chi le dimostra fiducia, eccetera. E nonostante tutto, nonostante lei soffra per amore e ha sofferto in più occasioni, i suoi ideali non crollano. Ed è bellissima anche la figura associata, cioè quella di Maria Antonietta, che viene presa così all'improvviso dicendo che lei sarà scelta per essere la moglie del delfino di Francia. E da lì poi degenera tutto, lo sapete meglio di me, sicuramente le fan e quelli che hanno vissuto quell'epoca sanno addirittura più di me. Ma è proprio questa la cosa, che mi non do come fa uno tsunami. In nessun manga all'epoca che l'essi c'erano queste tematiche ed io ero lì del tipo e ora? E' un casino, che cosa fanno? In questo ci sono anche i personaggi di contorno, ci sono Fersen, Andrè, la contessa di Polignac, Jeanne, Rosalie. Tutto questo per creare un salotto, se così vogliamo chiamarlo, di intrecci, amori, fraintendimenti, che una volta realizzato dissi, perché deve essere così complicato? Perché l'amore è così, non è mai semplice. Nemmeno per gli uomini lo è. Ecco perché Andrè, dopo Oscar, è il mio personaggio preferito. Oltre che, beh, si vedeva all'inizio che la Ikeda non aveva pensato a una relazione tra i due, infatti prima dell'introduzione del loro rapporto ci sono un po' di pretendenti che arrivano, se ne vanno, poi all'inizio lui non era tanto presente, quindi non sapeva cosa farci, cose, però, a prescindere dalle indecisioni autoriali, la cosa di cui io sono fiero che Andrè mi ha insegnato è che un rapporto si costruisce col tempo, e lui ha vinto, soprattutto perché lui è sempre stato con lei dall'inizio, e questo io non smetterò mai di crederci, conoscetele le persone, stategli accanto, anche non necessariamente nei rapporti di coppia, in generale vedrete che il rapporto tra voi e questa persona sarà diverso da tutti gli altri. Cosa che, per esempio, con Fersen non è successa. Fersen arrivava, Oscar era invaghita, però lui scappava per la guerra, poi ritorna, e così si crea il cosiddetto amore impossibile, che attira, ma ti fa dannare sia di testa che di cuore, e spesso non si va lontano così. Nei rapporti, poi, è normale, secondo me, provare invidia e gelosia, come fa la contessa, o madame come volete chiamarla di Polignac, perché sono sentimenti umani, ma in un contesto come quello della Corte di Versailles, dove tutti si schierano, te la fanno patire, sono i gruppetti di bulli, in questo caso bulle, che si coalizzano, e io molte di queste cose che succedevano in Lady Oscar le ho riviste, molto banalmente, anche nei miei contesti scolastici. Gli invidiosi, chi sfarla, chi sfotte, chi è codardo, chi si nasconde, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, dal come ve l'ho posta, può sembrare che ci sia solamente il brutto dell'amore in quest'opera, ovviamente non è vero, per fare ciò vi citerò due momenti che penso rimarranno indelebili per sempre nella mia mente. Il primo è il momento di Rosalie, che ormai resosi conto che il suo cuore può appartenere solo ad Oscar, lei decide di non rivelarlo e di tenersi questi sentimenti e dimostrandolo solo attraverso l'abbraccio a un uniforme da soldato. L'uniforme da soldato di Oscar. Il secondo, che tra l'altro è un momento che non vedo molto spammato in giro o in generale quando si parla di Lady Oscar, nessuno se lo ricorda, è quando praticamente lei decide di tornare donna, ovvero di rifiutarsi di considerarsi ancora quello che non lo è perché lo ha capito e lei vuole di nuovo essere padrona delle sue decisioni. Affronta il padre, lo ringrazia anche in parte per averle concesso le possibilità che le donne non hanno potuto avere e continua a ribadire che lei è l'unica padrona del suo destino e continuerà a combattere e affrontare con coraggio le battaglie che riterrà più giuste. E questo si vedrà poi perché lei decide di essere dalla parte del popolo per la presa della bastiglia. Ora, facendo un attimo una panoramica per il mondo manga attuale, io comprendo che Lady Oscar non è godibile per molti, perché io comprenderei benissimo chi non lo legge per il tratto, anche se io devo dire che per gli sfondi, panel floreali con le raffigurazioni dei personaggi che fa, le sensazioni che ti trasmettono, gli occhi che disegna l'Aikeda varrebbero l'esperienza, ma capisco che non a tutti interessano queste cose. Il contesto storico, se volete, ci faccio un appunto, ma è abbastanza chiaro che l'Aikeda si sia sforzata come non so cosa per renderlo quanto più vero possibile. Ovviamente non va considerato come manga storico, perché sì, alcuni PG, alcuni eventi sono storici, ma da qui a dire ora vedrete la Francia esattamente come allora è un po' too much, come si suol dire. Per dire, all'interno della storia l'Aikeda ha messo pure l'affare della collana, cosa che ho apprezzato da morire, quindi tanto di cappello. L'ispirazione verso il maestro Tezuka è palese come poche cose, soprattutto all'inizio, che c'è questa alternanza tra momento dolcissimo e siparietto comico che per alcuni può rovinare un momento, per me è solo un simpatico stacco per raccontarti più leggermente una storia. Poi, quando hai iniziato ad essere più consapevole anche del periodo stesso in cui l'Aikeda l'ha scritto, cioè raga, negli anni 70, ti rendi davvero conto che è stato un manga che ha avuto un impatto sociale, soprattutto per la condizione delle donne, pazzesco? Voi, non so se ci avete mai riflettuto, ma una scena come quella del rapporto tra Oscar e Andrè, avete mai pensato a quanto sia stato difficile metterlo in un manga che ha poi avuto l'impatto che ha avuto? Ok, non sarà di un erotico a livello esagerato? Raga, ma non è scontato. Rifletteteci. Come disse un content creator che stimo, non so cazzate. Io, ragazzi, spero anche solo un minimo di avervi fatto incuriosire su quest'opera che a me ha dato tanto nel periodo adolescenziale e non. Spero che anche voi vi innamoriate di Oscar e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciarmi un commentino così potrete tutti dirmi che, siccome sono un maschio etero bianco, non ho capito una mazza di uno shoujo come le di Oscar. Così ci togliamo subito le cose e come sempre noi ci sentiamo alla prossima. SIA!